Bella raga, prima di cominciare questo video ringrazio tantissimo ThisIsRect per la grafica e il banner di youtube, sono strafighi, link in descrizione del suo canale raga, ve lo consiglio Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video e oggi come promesso parleremo di Jess Furia di frammenti Eccola qui raga, allora prima di cominciare con le parole, con le mille parole che ho in mente che voglio dirvi a voi Cominciamo subito con una piccola domanda Jess Furia di frammenti, è un uomo o una donna? Punto di domanda Detto questo abbiamo tra di noi uno straniero recuperatore ed è uno dei pochi che hanno creato per ora nel gioco Abbiamo infatti Jess Furia di frammenti oppure il recuperatore trifoglio Sono completamente identici con le perk, cambiano soltanto appunto le skin Ecco raga, io uso preferibilmente Jess Furia di frammenti per il semplice fatto che mi piace più la skin Come potete vedere molto carina, col caschetto, gli occhiali da snow Tema natalizio ma non troppo in modo che puoi usarlo anche durante il resto dell'anno senza ricordare troppo al freddo diciamo no? E invece poi abbiamo il trifoglio che è uguale, le perk sono identiche ma non mi piace proprio come skin raga Non mi piace proprio Mi sembra un folletto, non lo so, preferisco diecimila volte Jess Furia di frammenti Ma sono gusti alla fine, solo che l'occhio vuole la sua parte diciamo no? A me piace molto di più Jess Furia di frammenti Ma andiamo più nel dettaglio adesso Ritornando innanzitutto alla domanda di prima raga Vi direi che Jess Furia di frammenti è una donna Si vede benissimo Comunque raga, allora abbiamo un incremento del 6% la probabilità di trovare un bottino doppio E questo abbiamo visto che ce l'hanno più o meno tutti gli stranieri Poi lama pignatta, un lama niente di particolare Se non andiamo a mettergli appunto le munizioni come bonus Se non ci droppa il raggio se lo spacchiamo tutto No, non ce lo droppa come abbiamo visto nello scorso video dei lama Ma appunto questo straniero vi spiegherò alla fine dopo avervi letto le perk Poi abbiamo un teddy, costa 30 energia e recupera 60 secondi Ricordiamo che invece quando schieri il teddy ma hai un frammento di ricarica con te Non è più 60 secondi di recupero ma sono 50 10 secondi in più fanno comunque la differenza Poi abbiamo un elettrotorre raga, utilissima, utilissima Perché? Perché tutti i piccoletti che ti arrivano addosso Tu lanci ste elettrotorre ogni 20 secondi E ti fa fuori tutti i piccoletti, anche i cicciotti E sciotta i mostri della nebbia Non li riesci a uccidere però diciamo che li fai male Almeno io parlo per me in una zona al 100 Cioè se lancio un elettrotorre e va allarguta Mi fa fuori anche gli smasher Però non è quello il discorso Io mi paragono anche un po' al vostro livello E cerco di farvi gli esempi un po' più chiari Poi abbiamo Incrementa di 5 secondi la durata del teddy E ci sta tutto perché il teddy più dura Meno tempo di ricarica abbiamo Meno dobbiamo aspettare Più nemici ci fa fuori Insomma ci sta E abbiamo questa perk che è particolare Infatti ogni 60 uccisioni fornisce un frammento di ricarica Ti da frammento di carica in modo che il teddy si recupera in 50 secondi O l'elettrotore si recupera in meno Ora non mi ricordo bene in quanti secondi l'elettrotore Mi pare 7 addirittura Non vorrei dire una stranzata Comunque lo vediamo subito dopo insieme E... è particolare È particolare perché sono solo loro due Come straniere ad avere questa perk E ce n'è un altro Che lo vedremo in un prossimo video Che è con 15 colpi alla test 15 uccisioni con colpi Vabbè questo non mi divulgo oltre Se no viene fuori un video lunghissimo E mi sto concentrando esclusivamente su Jess Furia di frammenti Che ricordiamo è trovabile in questo Natale Raga Deinama è possibile trovarlo Carica antimateria Che sarebbe il pugno per farmare i materiali appunto Oppure Si possono anche tirare due cazzotti agli zombie Comunque tipo quelli con lo scudo Quelli che ti arrivano addosso col frigorifero in mano I tiri un bel cazzotto con il pugno straniero Vanno in terra Poi l'elettrotorre puoi mettere una terza scarica Ci sta Il teddy spara fasci di energia dagli occhi E anche questo Ci sta tutto perché fa malissimo Incrementa il 33% i danni dell'elettrotorre Oddio ok Sfera 5 colpi di fila con un piccone Ottenere sul pezzo Questo ci hanno tutti gli stranieri Furia cieca Incrementa i danni inflitti dal teddy Di un 25% I nemici colpiti dall'elettrotorre Subiscono il 110% di danni aggiuntivi Raga che cosa avete notato voi Da tutte queste perk Che cosa avete notato Vi sto lasciando qualche secondo per rifletterci Ve lo dico io Non ci sono perk sulle armi Jess furia di frammenti È l'unico straniero Che ha solo perk Sulle abilità appunto E adesso vi spiegherò meglio Con questo eroe Io ragazzi abbino Jonesy di Twitch della prima stagione Se vi ricordate Che mi incrementa di 5 secondi La durata del teddy Complessivamente E in più Sara maestro di Shuriken Che incrementa del 20% I danni di tutte le abilità Io combino questo set di eroi Mi trovo abbastanza bene Quando scendo nelle missioni più basse Che cambio giusto l'ultimo eroe Del teddy De 5 secondi in più Sul teddy E ci metto lo straniero Che mi dà i proiettili Nell'ama Dipende un po' Da come sono messo i colpi Eccetera eccetera Questo è il set di eroi Che comunque uso io Fatemi sapere nei commenti Anche quale usate voi Dunque raga Allora Dicevamo su Jess furia di frammenti Volevo dire innanzitutto Molti di voi Fanno la domanda Ma Jess furia di frammenti È lo straniero più forte? È lo straniero più forte del gioco? Esiste qualche straniero più forte di Jess furia di frammenti? Vi risponderò subito Prima voglio farvi una premessa Come abbiamo visto questo straniero Cioè Usiamo il teddy Poi Appena finisce Comunque buttiamo l'elettrotorre Lo alteriamo con le torrette No? Quindi abbiamo un gameplay Diverso rispetto Al normale gioco Nel senso che Ok mi tengo le armi in mano Le uso solo se devo La maggior parte delle cose Ormai al mio livello Lo fanno le abilità Cioè Basta che mi metto il teddy L'elettrotorre Addirittura Con i compagni Questa commissione La sto facendo senza compagni Appunto per farvi Capire meglio Un attimo Ci butto giusto un difensore Che comunque Gli ho dato un'arma all'82 E come vedete Non faccio altro che Switchare le abilità Raga Cioè Tra torrette Teddy E elettrotorre Fanno tutto loro Quindi molti di voi Mi dicono Ma è lo straniero più forte? La mia risposta è No raga Non è lo straniero più forte È lo straniero più comodo Da usare Perché per quanto riguarda La forza Non esiste Uno straniero più forte Anzi Vi dirò di più Cioè Ci sono stranieri Che sono più forti Con certi Clas Con certi Tipo Di armi Con certi tipi di armi E stranieri Che invece Sono forti Con le abilità Stranieri Che invece Sono bravi Per farmare Ci sono i soldati Più potenziati Ancora Con le armi Tipo A raffica Tipo lo scar Che Basta che gli spari Due colpi in testa Ogni zombie E raddoppia a ratio Di fuoco Ma quello ci parleremo In un altro video Secondo me Lo straniero Jess Fury Di frammenti È uno degli stranieri Tra gli stranieri Più forti Quello sì Perché è molto È molto Forte in sé Le abilità Sono spettacolari Così come il trifoglio Ce le ha identiche Ma non Non me la sento Di dirvi Che è il più forte Mi sento da dirvi Che è il più comodo Da usare Perché è il più comodo Perché fanno Tutte le abilità Raga Cioè Noi Facciamo poco e niente A dire il vero Fanno tutto Le abilità E questa È la dimostrazione Di quanto ho detto Allora Raga Quindi il mio consiglio Qual è Innanzitutto Compratevi Quanti più lama Possibili Quanti ne riuscite a comprare Compratene più che potete Cercate Almeno di trovare Un jazz Fury Di frammenti Viola Che anche se lo trovate Viola Poi potrete portare Immediatamente Ad oro Poi Un altro consiglio Che vi do È Non specializzatevi Solo con una classe Di eroi Ma Sbizzarritevi Provatene Quanti più possibili E Cercate sempre Di divertirvi Salva il mondo È un gioco vastissimo E divertentissimo Secondo me Ogni giorno Che passa Ogni mese Rilasciano nuove cose Ok In questi giorni Ci sono stati Un po' di problemi E abbiamo visto Ieri per esempio Non Hanno zerato i depositi Per chi giocava All'evento Frost Night Oggi Addirittura A me non carica Neanche il gioco Ecco perché Sto portando una clip Appunto su Jazz Fury Di frammenti Me la volevo conservare Per più avanti Fine settimana Però Visto l'occasione Non mi fa caricare il gioco Raga Non posso buttarmi in missione Per fortuna Che mi ero salvato Questa clip Di una missione vecchia Appunto per farci il video E Niente ragazzi Io Per oggi vi saluto Spero che Questo video vi sia piaciuto Ma soprattutto Che io sia stato Abbastanza chiaro Fatemelo sapere Nei commenti Se vi è piaciuto Lasciatemi anche solo Un like Per supportarmi E detto questo Io vi saluto Ci vediamo domani In un nuovo episodio Di Kino TV Ciao a tutti 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 Ciao a tutti